Altro modello Macknife di Les Voris, un coltellinaio americano, arriva con un Fodronkidex, l'accello utilizzato è CPM154, il modello è abbastanza particolare, ne fa varie misure, questo qui è il più grande della sedia, qui come vedete c'è il nome del costruttore, è un unico pezzo d'acciaio, l'affilatura è Caesar Green, da un lato soltanto, da questo lato come vedete è piatto, ci sono dei fori per alleggerimento del mare, per farlo più carino, o anche se si vuole montare qualche guancetta c'è la possibilità di montarla successivamente. Il coltello ha una particolare forma al rasoio, taglia anche di conseguenza, ottimo da poter essere utilizzato tutti i giorni, come Macknife, come coltello EDC. l'esforis midi, Macknife. C'è un po' di più, come coltello. Ci sono un po' di più, come coltello. L'esforis midi, le stagione. Chiedi, le stagione. Grazie a tutti.